Agenti della squadra mobile di Taranto con l'ausilio di 13 equipaggi del reparto prevenzione Crimine Puglia hanno arrestato questa mattina 14 persone ritenute responsabili a vario titolo di detenzione e cessione di ingenti quantitativi di stupefacenti, in particolare cocaina a Lizzano e nei comuni limitrofi. Nel corso dell'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, si è provveduto al sequestro di stupefacente nonché di armi e munizionamento vario. Sono stati identificati oltre un centinaio di acquirenti. Un ruolo rilevante nell'organizzazione avevano due donne che utilizzavano un linguaggio in codice per indicare la sostanza stupefacente. Il vestante orientale, voi sapete che per tradizione, è sempre quello più caldo, oltre al capoluogo, diciamo, perché presenta delle vicinanze con la provincia di Brindisi, la provincia di Lecce, nella zona del Manduriano c'è stata l'esperienza della Sacra Corona. Quindi ambienti che comunque sono paesi soggetti per tradizione. Ricordiamo altre operazioni anche fatte da altri organi di polizia su Lizzano, anche il ritrovamento tre anni fa di numerose armi da parte nostra in un garage di pertinenza. Quindi è comunque un ambiente difficile che stiamo naturalmente monitorando costantemente da Manduria fino al capoluogo, anche sulla base delle indicazioni emersi in sede del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, l'intesa con i carabinieri, perché è una zona particolarmente sensibile e ci vede presenti.